Salve a tutti, qua da Fabio, oggi c'è un nuovo video sbarbato più iniziare il video sbarbato con lo sponsor di un canale di Youtube che si chiama Eros Rasatore Tradizionale lascerò il link in descrizione, lascio il link in descrizione anche della pagina Facebook dove faccio parte dei Neofit per Passione, lascio il link in descrizione del sito di Rasore Guidi Elef e lascio il mio secondo canale di Youtube dove parlano di orologi allora, ho una domanda per voi adesso voglio far vedere, la metto e mi ha dato Eros, che lui ha preso delle stacche da 100 ma ci siamo divisi, gli devo dare dei soldi ma lui non ha voluto, me l'ha voluto regalare allora, oggi proviamo di Rasco Platinum, barba di due giorni e mezzo poi mi ha dato, questo è Dorco qua, non mi ricordo mai se sono Platinum o Stylus le Dorco HQ Technology, Dorco di Existence Blade, non lo so poi, beh, Big Bang che non riconoscevo che le avevo già provate 50 mi ha dato, 50 mi ha dato, è totale 250 alla mezza le Sharp, perché ci vuole la Sharp, 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 Sharp questo ce l'avevo già al pacchetto ma ancora ne l'avevo provate le Asco Stylus ho un dubbio allora, le Tiger Super Premium Stylus Bad io di questo ce l'avevo già, no? ma cosa cambiano? fatemelo sapere nei commenti questo forse è da 5 e questo è da 10 non cambia niente? fatemelo sapere allora, intanto ci seguiamo il video anche se ho fatto la doccia ma usiamo lo stesso il panno caldo panno caldo io le asco che non l'avevo mai forte, né platio, né stanis per favore usiamo good yellow smile delle non frugate, glory poco, è proprio tutta la pelle morbida sì, due giorni e mezzo perché l'ho fatta due dì alle 5 del pomeriggio mi ha detto visto che ho fatto già la doccia mi faccio anche la barba due giorni e mezzo ci costa i rasoi usiamo il Gillette King con le asco platio sono curioso dell'asco perché non l'ho mai provato ho visto dei pari positivi qua c'è una pochissima perché se riesco a farla vedere poca comunque perché io adesso lo farò così mi tengo due giorni per fare la barba il giovedì e la domenica e la domenica uso la platio che è cortissima la barba queste lascio a me da parte queste le poi metto a questo poi i saponi usiamo di Irving Park aspetta che arrivo eh pennello Mokka il mio primo sintetico quindi poi ritreviamo un po' Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora... Allora... Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. su ci mettiamo... a tutti. 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 ci vediamo al prossimo video. a tutti.